In questo momento, come vedete, stiamo per compiere l'occolto. Abbiamo tagliato qui la recensione e ci aggiungiamo ad entrare per rubare tutta la mariguana. Era ora, lui arriva e ti tiri torno. E lei mi scarta, capito? Io faccio come dire dove cazzo vai e lei mi scarta e va da loro, no? Almeno mi sono levato dai coglioni. Scusate, no, è un linguaggio della Francia del Sud. Sgomberare, su, non potete stare qui, è pericoloso. Che prende in mano la situazione? Ragazzi, dai, datevi una mossa perché voi signori hanno perfettamente ragione. Signori, qual è il problema? Pensateci pure con calma, io torno subito. Vado un attimo a parlare qui con... L'ingegnere. L'ingegnere. Già, tre di noi sono entrati. Sia ben chiaro, io lo faccio solo perché è una cincenza, ma sono così incazzata, ma così incazzata. Tu sei meravigliato di quello che sta a cadere, al di là delle cose che ti ha detto. Questa è la prima buona. Ok, vediamo. E ora siamo per accingerci a fare la scena in cui trasporteremo delle casse finte dentro della paglia per sostituirle con queste casse di cartone di marijuana che l'è stata imballata dalla polizia all'interno del corso. Ivan, esce? E' arrivato qui. E' arrivato qui. 37-1 prima. C'è fatto. Un mostro. L'attivazione di sono. Pesate. Speriamo che vada tutto bene perché, come sai, fino all'ultimo non si sa mai. E lui va così. Pensione, metti. Pensione. No, no. Senta. Fami. 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 La città con noi. La crue sta bene. Si mangia da paura qua. Veramente molto bene. Non piove più. Le cime sono innevate. Va tutto bene, direi.